Gallerie Peugeot è una collezione di vetture che vanno dai primi del Novecento fino quasi ai giorni nostri. Si va dalla Bebè del 1913, progettata da Ettore Bugatti, a 301 di Coupé, alla Limousine del Papa, alla Peugeot 604 Limousine Eulier, tante cose che vanno dall'oggettistica fino alle auto, le moto, le bici, di tutto. La passione per il marchio Peugeot nasce alla fine degli anni Settanta, quando per ragione di lavoro mi trovavo in Medio Oriente e viaggiavo spesso con delle vecchie Peugeot in condizioni veramente incredibili. Queste vetture avevano una affidabilità, una capacità di muoversi anche in queste condizioni veramente incredibile. La collezione è nata un po' alla volta, sono solitamente una trentina di vetture esposte che vengono via via fatte ruotare per poter presentare sempre qualcosa di nuovo. Peugeot oggi come ieri ha una sua coerenza come marchio, come immagine. Io guido le Peugeot di oggi come quelle di una volta, oggi per esempio guido una Peugeot Ion 100% elettrica, che se vogliamo è un qualcosa di veramente all'avanguardia, nello stesso modo in cui posso guidare la Bebe di 100 anni fa. Mi piace, mi appassionano entrambe, è una sensazione particolare e si prova alla guida di queste vetture qui. Vorrei dire a tutti i possessori i 205, soprattutto se possiedono una 205 originale, conservata, di continuare a mantenerla, usarla come vettura perché sicuramente darà sempre più soddisfazioni. Sono le vetture che stanno diventando sempre più rare e sempre più interessanti nel mondo della collezione. Grazie.